5 70 O4 vai e scivola D4 tac Continua 6 tac In O5 tac Vieni Conto Sua lezione sporca D3 70 D6 tac 80 Dosso dritto 50 Nu O3 Meno lungo Forza sporca 150 Interno O4 più Tac 50 Nu D5 meno Tac Diventa 50 Prena Nu 2 più Tac Continua 3 meno Chiude In O4 Tac 100 Attenzione ritarda Nu O3 meno 80 80 O1 più Tac Pulito 20 Dosso ritarda D4 meno 50 50 50 Dosso dritto 30 Ritarda poco D4 vai per O4 più Chiude 10 Poco interno D4 meno 20 O20 20 70 70 A vista D5 Tac 10 O4 su 30 Chiude 3 più Tieni In D3 meno Chiude Tac Continua 5 In O5 Stringe 100 100 Dosso D4 più Su 30 Chiude 4 meno Nu E O3 Più Vai Diventa 10 3 Chiude Tac E ritarda D2 meno Chiude In O2 Più Tac Continua Ritarda 3 lunga E D3 Meno Chiude 20 Ritarda D2 Meno E dosso Ritarda Molto O4 In D6 Tac 150 A vista Nu O7 Diventa 50 Ritarda Molto 4 Vai Nu 20 Dosso Poco Sporca O5 Tac E ritarda D4 In O4 Chiude Tac Su Dosso Per D4 Meno 20 O6 Chiude Dosso 5 Tac Per D6 Tac Diventa 50 Forse Scivola Nu 2 Più Chiude Tac 80 A vista Al palo Ritarda Nu Di 4 Meno Tac 100 A vista Frenata Forse Scivolosa Di 2 Più Chiude Tac 50 Ritarda Poco O4 Meno 20 Dosso Dritto 50 O4 Più Lunga 100 Dosso Dritto 10 Di 5 Più 30 Attenzione O6 Su 70 Chiude 5 Più Sporga Frena 50 D3 Chiude Per O2 Più Chiude E D4 Più Tac E O6 Tac 100 D5 Meno Stretto E O5 Più Continua 7 Tac 30 Dosso O5 Più Tac Stretto Diventa 50 A vista 4 Più Tac 200 200 A vista Tosso Dritto Per O5 Più Tieni 50 Tosso Dritto 10 Tosso Ritarda Molto Di 4 Più Chiude Diventa 50 3 Più Tac Vai Continua 4 Più Tac 50 Molto Attenzione Sporza O4 Mossa 70 Interno O4 Meno 50 O4 Per Ritarda D4 Meno Chiude In O4 30 Ritarda D3 Meno E O4 50 D6 Diventa 30 Dosso Ritarda Molto 5 Meno Per O5 Meno 80 D5 Più 70 A vista Attenzione Stai Il cero Dito So Dritto 10 O4 Più Chiude 50 Frena Dosso Ritarda D4 Più Su 50 Chiude 1 Tac E Dosso D6 O5 50 A vista Nuo O5 Almeno Tac 100 Dosso D5 Lunga 20 O6 Tac 50 Si poco D3 Tac Sporca In Nuo O4 O4 Più Continua Ritarda 6 Lunga 50 Si poco Sporca D3 Vai O5 5 Su 100 Su 100 Chiude Nuo 4 Più Chiude 150 Interno D5 Più Tac In Dosso Dritto 200 A vista Attenzione Nuo 5 Meno Lunga Su Dosso 70 Ritarda D5 Meno Continua Frena Safe Tac E Nuo O3 Più Vai E D5 30 Dosso D6 Su 70 Chiude 5 Tac 20 Attenzione Nuo O5 Meno 150 A vista Attenzione Ritarda D5 Lunga Per O6 Lunga Su 80 Condos Alleggerisce Apre 7 50 O7 Tac 100 Dosso Ritarda O5 Tac 30 D5 Meno 80 Frena Sporca O2 Tac 80 Sì D5 30 O7 Tac 50 Dosso Dritto E ritarda O7 10 D6 D6 In O7 Tac 20 Dosso Dritto 10 Dosso Dritto Stai B E Dosso Dritto Lungo 150 Attenzione Nuo D6 Tac 80 80 Ritarda D5 80 Vista O4 Con dosso Dritto Stringe Continua Nu 5 Meno Lunga 70 Vista Sì D4 D4 Chiude Continua 5 Meno Tac In O5 Meno Tac 70 Interno D5 D5 O5 Continua 6 Lunga 50 Stai D Dosso Dritto 150 Attenzione D4 Più Tac Stretto 80 Attenzione O3 Tac In D In O6 Sudosso 150 O6 In D6 Lunga Su 70 Chiude Anticipa 5 Su 50 Per O4 Più Tac In Anticipa D6 Su 80 Chiude 5 Meno Tac 30 O4 Più Tac In D6 Tac Condosso Dritto Continua Attenzione 5 300 A vista Attenzione O5 Meno Tac E Ritarda D4 Più Chiude 80 Vista Frena Al palo 10 O1 Più Tac 50 Vista O6 Su 30 Chiude Interno 4 Tac 100 A vista Stai O Dosso Ritarda Di poco D4 30 Dosso Frena O5 Tac 10 D3 Tac 70 Vista Dosso Dritto Lungo Tai D D4 D5 O5 Più Tac 150 Ritarda poco O5 Meno Tac 30 D6 Tac Diventa D5 D5 Per Dosso O7 Tac 400 Attenzione D4 Stretto Per D6 D6 Lunga 50 D6 Tac 70 D6 Tac 80 Attenzione O3 Tac 20 D Tac In O5 Lunga 100 Vista Dosso Dritto 50 D6 Tac Diventa 30 Ritarda 3 Più Apre Lunga Con Forse Sforco E O6 Tac Diventa 50 Ritarda Poco 3 Tieni E Di Poco D2 Più Apre Tac Vai 20 O2 Più Lunga Vai 20 D4 Continua Ritarda Quattro Più Tieni In Sì Poco O4 Meno Tac 30 O3 Più Tac Cento A vista D6 D6 O6 Tac Continua 7 Tac 70 D4 Tac Vai 70 D5 Su 20 Diventa 30 4 Tac Fai 200 A vista Attenzione D5 Tac In O4 Più Su 20 Chiude Attenzione Nu 4 Tac In D5 Diventa 25 Meno Tac In Subito Nu O5 Tac Con 100 Nu D6 Su 50 Chiude Nu 5 Più Tac Stretto 100 A vista Ritarda O5 Su 50 In Nu D5 Continua 6 Tac 20 O6 Tac 150 Attenzione Nu O4 Chiude Tac 70 D4 Più Tac In O5 Tac Due Volte 10 A vista Mossa Ritarda D5 Meno Lunga Su 80 30 Sì O4 Meno Tac Stretto Continua 5 Più Lunga 80 A vista D6 Lunga Su 50 Diventa 30 Ritarda 5 Meno Lunga Per interno O5 Tac In D7 Tac Continua Nu 6 Tac 50 Nu D4 Più In O6 Chiude Attenzione 4 Più Tac In Nu D5 Meno Tac Diventa 50 A vista Ritarda Poco 4 70 O6 Tac 50 Sì Tac 80 Ritarda Molto O4 Meno Diventa Subito 3 Più Tac Fai In D4 Apre 5 5 Meno Lunga Su 50 In O4 Più Tac Per Attenzione D4 Ver O4 Più 100 A vista O5 Meno 20 D5 E Ritarda Poco O4 Lunga Vai Continua Subito 5 10 D6 In O7 300 Attenzione D5 Di Poco 30 Molto Mosso Dosso Dritto 50 A vista O6 2 Volte 150 Fren Ritarda O3 Più Su 20 Chiude Lunga 3 Meno Ver Forse Sporca Di 3 Meno Apre 4 Più E Ritarda Nu O5 Lunga Su Dosso Forse Sporca Continua 7 Tacc 80 Attenzione Dosso D5 Su 70 Chiude Attenzione 4 Più Stretto Per Nu O4 Chiude 150 A vista O5 Tacc 200 O4 Meno Lunga Per Dosso D5 Lunga E Stai Di Dosso Dritto Per O5 Tacc E D6 In Frena O6 Su 20 Tieni 20 Sì Molto Sporca D2 Più Vai Apre 5 80 Ritarda Poco 8 O2 Lunga Continua 6 50 D6 Tacc 50 Ritarda O6 Tacc 100 Frena Forse Sporca Ritarda D3 Più Lunga Su 30 Chiude Arrivo 30 O3 Più Chiude 3 Meno Lunga 14 20 Sette